dopo tantissimo tempo eccoci qui con un nuovo video svuota la spesa natalizio alleluia salve a tutti quant'ora non lo facevamo da due mesi un casino di tempo tantissimo tempo siamo andati da sisa mia madre ha speso da quest'ultimo 57 euro e 65 centesimi non tantissimo non ha preso tanta roba però ci tenevamo a farti il video e lì siamo già dal pezzo forte questo è il periodo natalizio quindi partufone motta crema al cioccolato con cacao dell'ecuador cioccolato extra fondente decorato con croccante granella di fave al cacao e questo quanto l'hai preso mamma ecco ed era questo che tu mi davi l'opportunità di poter parlare come faccio di sempre insomma mia madre non c'è più abituata esattamente e non mi sono smentita non riesco a smentirmi neanche oggi tu pensa vabbè è passato del tempo la dovete anche capire la trovate sì certo prima o poi devo trovarlo 7 euro anzi è un buon prezzo comunque la parte di sopra è quella secondo me migliore nei panettoni sì lo so sono golosa qualcosa è successo mamma eh sì è un po schiacciato i milk e colesterolo questi non possono mai mancare ma il bello è che non mancano ma mancano qua però è un problema veramente serio e sì che la lista qui è molto ristretta mamma siamo messi male no? 1.89 poi mia madre si mette con quegli occhiali sembra nata sembra nata tutto esso fagioli, ballotti, si sa quanti? 2? 55 centesimi che carino il latte zinilla 4,74 polpa star 1 euro e 99 milk muller questo qua è con le fragole già te l'ho fatto vedere tempo fa con la fragola e questo qui un altro parmalat con yogurt intero con cioccolato se balbetto non ci fate caso perché il tempo fosse sempre 99 centesimi oggi c'era una giornata che spaccava le pietre c'era un sole bellissima giornata stupenda e di pomeriggio niente è cambiato poi lenticchie giganti si sa quante confezioni 2? mi sembra proprio 2 sì no io 1 euro e 25 da do star l'altra volta me l'ha preso pure totò per fare il brodo anzi del brodo trovi la ricetta sul canale se ti interessa brodo di carne fatto dalla mia mamma la ricetta 1 e 15 no perché ognuno di noi lo fanno magari in un modo diverso no io l'altra volta l'ho provato con la salsiccia sotto consiglio del nostro macellaio devo dire che è venuto veramente bene saporito ovviamente la salsiccia è grassa quindi era inevitabile che venisse bene con l'ottorio pasta del capitano questo è whitening mi avevi dato anche il tempo di guardare pensa ma che hai ma sei scarica sono le feste che mi stanno scaricando no è la quarantena anche l'abitudine a non farlo più come prima capito era più allenata ora mi sto scaricando ma non ti scaricare un terzo 1 euro e 29 la camomilla sisa 95 centesimi c'è odore di dato questo forse l'abbiamo visto l'ho fatto vedere qualche volta una volta mi pare sì sì che è che maestro quanto questo addirittura 9 euro e 99 centesimi era in offerta a prezzo pieno costa 14 euro e 99 questo è interessante amuchina igienizzante pavimenti rimuove gli allergeni senza risciacquo anche per ambienti con animali domestici rimuove germi e batteri pensa 2 euro e 36 lind cioccolato 70 per cento tuo padre l'ha assaggiato 100 per cento non sto salendo l'idea sì il 100 per cento ma non l'ho assaggiato pure io ma non si può mangiare esatto è amarissimo ragazzi l'avete mai provato poi il cioccolato 100 per cento di questa scrivetemelo nei commenti nel commentino perché sto curiosa questo è 1 euro e 99 biscotti misura 2,59 ora qui abbiamo dei cioccolatini di vario tipo sorinette sorini della marca sorini italia creme assortite cioccolato al latte ripieno di creme assortite questo questo qua double ma è tutto lo scorta questo qua cereali e poi questo qua al caramello esatto eccomi qua 15 poi questi che sono gli autentici tortelli prosciutto crudo prego guarda questi le pd si e lo stiamo facendo l'abbiamo provato mia madre m'anticipa spoiler fa spoiler esatto brema i primissimi girasoli di salmone non sono male dobbiamo dire la verità anche a mia madre sono piaciuti vero ma sì 1 euro e 99 quanto gli dai di voto tu 7 e mezzo 8 non si sente che sono fatti con conservanti e cose varie sono buone niente questo è mio padre che chiama ma questa è la lì già? eh vedete vabbè d'acqua e sapone invece mia madre ha speso 31 euro e 19 centesimi allora c'è bagno brillante formula anti calcare quanto? 1 euro e 29 mi sto abituando ebbè mamma purai tu la scontrina è piccola lì non è vero non dire queste cose feeling si all'ammorbidente questo è con fiori di lotto mamma aspetta aspetta calma mi vuole caricare la profumazione è diversa la puoi proprio aprire? il prezzo no? tutto 1 euro tutto 1 euro e poi c'è quest'altro di queste ne ha presi due mia madre questa è la lavanda spicche e spanne che nome simpatico pavimenti deterglie profumo la casa cedro e pergamato vedi tu hai detto che lo scontrino è piccolo vero lì? che bel colore mi stava chiamando Elisa va bene ne ho due figlie ecco ogni tanto capita parlavamo con lei prima eh hai capito abbiamo dovuto interrompere perché abbiamo fatto conversazione con mia sorella vediamo se domani lo vedo è costato poco 99 centesimi no tutto poco ho intravisto il lo scontrino tutti i prezzi bassi brava l'isoforma floreale rimuove anche gli allergeni candeggina con detergente igienizza sbacchia sbianca deodora senza fosfati ed è questo quanto? 1 euro e 99 c'erano varie profumazioni esatto glass tovaglioli con 1 euro e 20 ok ora al B la ricarica è quella per lo spazzolino elettrico 9 euro no no 10 e 10 con mentato malizia sapone liquido questo qui è con musco bianco 79 centesimi tutti questo qua argan e vaniglia invece e poi l'ultimo tè verde e menta di questo qua l'argan ne ha presi due white now love forever denti bianchi a lungo questo qua con la confezione dorata ed è ottimo fa il suo dovere questo si è eccezionale per lo sbiancamento io ancora questo non l'ho provato io lo consiglio però ho provato il white now quello non mi ricordo la confezione quella blue force e mi sono trovata bene quindi se mia madre dice che anche questo è ottimo lo consiglio quindi per dirlo lo do proprio spazzolatamente 2,90 euro costa un po' però è ottimo per il risultato qui abbiamo una cosa che mia madre ha voluto comprare perchè mia madre si è fatta le mesciate quindi ha voluto prendere lo shampoo anti giallo della L'Oreal Paris purple shampoo perchè il viola nella rotazione la cerchia dei colori contrasta il giallo se io mandassi ad applicare questo il mio biondo diventerebbe un biondo freddissimo ma siccome i miei capelli sono nati biondi caldi non lo andrei mai a fare per mia madre invece questo va bene può essere anche che ha un effetto blando quindi tu te lo puoi fare più volte essendo uno shampoo può essere che ha però un effetto così 3,30 euro ah beh perché è appena uscito e ci fanno quindi tanta pubblicità tante cose per questo ne ho presi 3 alla lavanda di breath questi sono ottimi per il bici lo profumano sono gli unici io te l'ho sempre letto e invece questo qui ha il limone 89 centesimi l'uno ma che velocità c'è il profumo sono stata brava bene il video è terminato speriamo di averti tenuto in qualche modo compagnia anche se il video non è proprio lunghissimo però volevamo ritornare in qualche modo facciamo anche gli auguri a tutti quindi mamma tantissimi auguri a tutti di queste festività che ci stanno si stanno incombendo su di noi speriamo che vada tutto bene in generale non solo per questi auguri gli auguri in generale auguri per tanta salute e per il discorso che stiamo vivendo che speriamo che finisca tutto presto e che il 2021 porti tanta tanta serenità e salute serenità e salute le cose principali vi mandiamo un grandissimo bacione io qui non ci fate caso con una penna che mi ha dato mia madre la colpevole a lei anche io la colpevole perché ci siamo iscritti ciao 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 ciao